Ce ne sono tantissimi Ce ne sono tanti Uno dopo l'altro Sai che sollevazione tira su Ah guarda lei con le destra Che bello Eh? Si è messo proprio nel punto di vista Prendi la seconda a sinistra In via delle Maone Gira a sinistra Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.